Stanno ricominciando i contagi, bisogna assolutamente ancora alzare l'asticella dell'attenzione tra di noi, con le scuole riaperte. Sì, abbiamo bisogno di mantenere ancora molto alto il livello d'attenzione, non siamo fuori dall'epidemia, quindi è giusto ancora rispettare tutte le regole fondamentali, a partire dalle mascherine, dal distanziamento, le cose che abbiamo imparato in questi mesi e che ci hanno consentito di piegare la curva nel momento più duro. L'apertura delle scuole è stata la fine vera del lockdown, quindi è chiaro che ci assumiamo un rischio in più, ma era indispensabile e penso che il Paese stia reggendo anche questa sfida fondamentale. Questa quarantena più breve non funziona? Il nostro comitato tecnico-scientifico la sta valutando con grande prudenza, con grande cautela. C'è un confronto in corso con le principali organizzazioni internazionali e ci faremo guidare, come sempre, dall'evidenza scientifica. Sulla base di queste valutazioni decideremo che fare, però quel che è certo è che ancora abbiamo bisogno di grande cautela e di grande prudenza, perché siamo fuori dai giorni più difficili, ma non siamo ancora in una situazione di sicurezza, quindi abbiamo bisogno ancora di gestire una fase di transizione che ci auguriamo possa essere il più breve possibile in attesa del vaccino e delle cure.